o bullo sta tre ore sta facendo 6 ore ci fanno 24 ore di corrente mentre ti chiamiamo qui e ti fai buttare 3 tattine se hai fatto il cuo questo coso e questo coso 3 ore sta no bullo sta 6 ore e 40 di corrente ci costa 24-25 ore di corrente la faccio grassone e tu che il Giannini tu fai grassone rimanere un sacco si, c'è mancheria? è un uomo, è sicuro e questo cosa sta accadendo, io l'ho messa tanto su un uomo tanta un po' tanta, hai già diventato tanta si un po' di grassone come si fa la sicca si fa 24-25 ore di corrente una polla eh? che mancherà? la polla è patanella patanella? eh i patanelli si scumbano la polla è patanella non è l'entana arrostita l'entana arrostita l'entana arrostita l'entana arrostita l'entana arrostita meglio a qualsiasi mangiare patanella si, si, è busto di patanella una busta di patanella che c'ha per maionese? i ciocchi maionese una birretta vai e poi devo pulare il patanello levo pulare il patanello pullo fa questo pullo un pollo 3 euro e per 30 e 150 euro per rendere il cucio non mai tutto su cosa ma quando i bull anna sta in data a terra sanna fa quante l'elefante ma fa quanti pachi metri di pachi termini e come si è un po con il giro non fa niente non ti piace? acqua salata domani che fai? scampatio ma non si fanno due cozze crue uno spaghetto per i miei celli Ad Capullo. Ad Capullo, con scampatia, con la maria imbebata di cozza. E' un materione? No, tu puoi la puccia, puoi la puccia ma non è andata a terra. E' schifo i pucchi, eh? E' un mo' cacciato ma io ho visto. C'è brutto, allora io giuro che tu mangia il dolce. Tu stai facendo come è un pisondello. E' un po' di magno tacchini, ma 5 kg di cerasio. Ma che? Chiedi a me che è due, ci sono bufette. E' un po' di magno. E' un po' di magno assaggiato. E' un po' di magno. 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 Un po' di magno. E' un po' di magno. E' un po' di magno. Parigi sanna proprio. Closetto. E che si manca? Che è un po'? Mardi di mar. Venmi. Non l'hai spendo?! Ho piaciuto sempre questo gogo. Ma guarda io sto facendo il rumore, non. Vediamo, non lei mi usa da prendere. Ma mi c'entrano e fanno fanno. C'è il maschino, quando devo trovare. Ah, da dove sei? Ma guarda io? si non si butta il cibo chi ti manca? e guardami la pizza e qua è un problema, già l'ha chiamata provate il cibo, le chi ne viva è buono un'alione di cose, un'alione si un'alione esiste è stato tutto fulletto ciao con l'ame, questa sera va a farmi dal l'umido una pizza ciao